Siamo pronti? 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 Chiudi la bocca stagli attento Questo di posto è già venuto Ha fatto più male questo? Sei in grado di cambiare adesso Hai dimestichezza di questo Quello tuoi Nooo Non sono mai andata a ripircire a farmi cambiare Ah che strano Era questo quello del pendivale Vedi? Guarda che cosa stai facendo Eh Del ghiaccio va bene Super bene Buongiorno